Eccoci da Manfredoni, un saluto al Fiat 500 Club Italia, il fiduciario Matteo Cotrufo, le nostre signore, Monica Mantovano del Comitato e vi salutiamo oggi, 31 agosto, con la nave Vespucci alle nostre spalle. Un caro saluto, saluta Matteo, saluta il club Buongiorno Fiat 500 Club Italia, ciao a tutti, sempre con noi, sempre sul cuore Eccola